Una tavola rotonda sull'analisi dell'accoglienza turistica e delle prospettive future è quella che si è svolta venerdì scorso nella sala consigliare della provincia di Savona. Non vogliamo imporre niente, a nessuno diamo delle indicazioni, quali dovrebbero essere, secondo il nostro punto di vista, gli obiettivi per migliorare l'accoglienza. Conf Commercio è stata molto attiva nel realizzare questo lavoro che poi alla fine, nelle sue conclusioni, è in linea con le idee che stiamo elaborando come Camera di Commercio e vale a dire che il nostro turismo ha bisogno di una focalizzazione sul prodotto. Rivitalizzare l'accoglienza, riformare il sistema dell'organizzazione, fare cose semplici ma funzionali ed efficaci, innovare il prodotto sono i tre temi al centro dell'attenzione. Destagionalizzazione, internazionalizzazione, formazione e coesione sociale, queste sono le linee che insieme al territorio noi abbiamo ricavato come le più importanti. Il territorio è in linea con le tendenze di revisione dell'organizzazione turistica regionale che stiamo mettendo in piedi dopo il decreto Salva Italia che ha svuotato di funzioni e di competenze le province. Noi dobbiamo coinvolgere tutti gli operatori, non solo alberghi, ristoranti, bagni marini ma proprio tutti gli operatori, riuscire a confezionare bene il prodotto, in quel modo lì noi poi promuoviamo la destinazione, promuoviamo e commercializziamo. Destagionalizzazione, diversificazione del prodotto, formazione anche dei residenti perché noi riteniamo che è un territorio a tanto più appille dal punto di vista turistico quanto è considerato attraente da chi lo abita.